la città città spessi sono stati ieri del città un nuovo video oggi siamo su brawl stars allora e da molto che non faccio video comunque ho poco da dire sull'inizio per farlo che sono finiti comunque non vediamo film comunque oggi siamo su brawl stars voglio che la scelta molti mi piace per questa per questa serie allora poi lui diritti sono già avanti a questo non ci faccio davanti sono i personaggi grado quasi sei di bull ma è il personaggio che mi trovo meglio quindi lo uso sempre ed ecco perché sono avanti con questo comunque iscrivetevi al mio canale lasciate un like mi piace supportate questa serie grazie e iscrivetevi al canale di pocafandodo ovviamente io lo sponsorizzo perché voglio vedere quello che sapete fare comunque io inizio perché il video lo posso fare poco perché e e e e e e e e a me e e quindi pocafandodo e e e lo avete scritto proprio qua e e e e e e e di tipo asce asce con Pokémon quindi c'è lì in mezzo di asce pochettami 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 ehm beh comunque ehm comunque ehm quello che facciamo non ho in questo senso ovviamente cioè cioè dai mi faccio vedere non posso essere sicuramente quanto togliervi vabbè dai dai ovviamente ok dobbiamo vincere dai dai non va neanche il colpo ho detto la telecamera qua così ci vediamo come siamo i vantaggi non mi guarda non sono vabbè non poi non no ok 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 non va bene tiri di fare un'altra partita non ho fatto tutto allora scegli mi ha appena ucciso quanto toglie scegli allora io posso fare pochi minuti pochi 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 no dai ok ora li faccio la supermossa eh perchè diminuisce l'abbiamo persa ancora ok ragazzi stiamo giocando stop perchè non posso fare un altro tempo di video ah che cacchio molto pettino poi dite che io faccio schifo a giocare non ditelo perchè sono loro dai ho perso dai stiamo per perdere per perdere dai cacchio no 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 o no no a basta stiamo sempre scendendo no caccia brule sa che ha però gli ho tolto abbastanza vita ok ragazzi abbiamo vinto e ora vi dover salvatare iscrivetevi al canale se non l'avete fatto grazie e vai iscrivetevi al canale di pocafondo e noi ci vediamo in un prossimo video bene a tutti ragazzi